C'è un tempo perfetto per fare silenzi. Guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muda delle fate. Il passaggio del sole d'estate Il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muda delle fate. Il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muda delle fate. Il passaggio del sole d'estate